Quali sono le migliori criptovalute da mettere in staking su Coinbase? Quali sono le migliori criptovalute dalle quali possiamo ottenere degli interessi composti passivi ogni singolo giorno, settimana, anno su Coinbase? Benvenuti su Cryptovalute Italia, benvenuti in un nuovo video dove vedremo lo staking di Coinbase che è una delle opportunità che ci dà Coinbase per guadagnare criptovalute gratis. Per poter guadagnare degli interessi passivi in staking sui Coinbase naturalmente quello che dobbiamo fare è acquistare delle criptovalute su Coinbase oppure trasferirle su Coinbase, non abbiamo l'obbligo di acquisto. Vi consiglio in primis, aspetto fondamentalissimo, se non avete ancora ottenuto Coinbase se non vi siete registrati a Coinbase, di andare in basso perché troverete il link che vi permetterà di potervi registrare a Coinbase e attenzione attraverso quel link dopo aver effettuato la registrazione, la verifica del conto come sempre con i documenti caricando 100 dollari all'interno di Coinbase, io vi consiglio 100 euro per non sbagliare vi verranno regalati 10 dollari in Bitcoin, ok? Quindi vi basterà naturalmente registrarvi dal link, caricare il conto di 100 dollari acquistare una qualsiasi criptomoneta di vostro interesse e riceverete 10 dollari gratis di Bitcoin. Inoltre in basso troverete il tutorial completo a Coinbase in modo tale da capire come funziona questa piattaforma. Oggi invece parliamo di interessi passivi, quindi di come guadagnare semplicemente detenendo determinate criptovalute. In realtà, a differenza di molte altre piattaforme decentralizzate e centralizzate, Coinbase non ci dà tantissime opportunità di guadagno passivo all'interno della sua piattaforma. Infatti, all'interno di questa pagina, scorrendo qui in basso, quello che possiamo intravedere è che ci sono in totale, in questo momento, 6 risorse che possiamo utilizzare per guadagnare passivamente. Come possiamo vedere c'è Ethereum, poi abbiamo Algorand 4%, API, quindi interesse composto. Vi ricordo che quando trovate la parola API è interesse composto. A mano a mano va aumentare perché deteniamo questa criptovaluta e quindi aumenta e aumenta l'interesse che noi otteniamo, ok? Perché se oggi io mi ritrovo, facciamo un esempio, 100 Algorand e con questo 4% a un certo punto me ne ritrovo 4 in più, io non vado più a calcolare su 100, ma vado a calcolare su 104, quindi ne riceverò di più, è normale, ok? Poi abbiamo Cosmos, un 5% che non è malvagio, non è male, soprattutto se vogliamo diversificare e mantenere alcune criptovalute all'interno della piattaforma di Coinbase. Tra l'altro vi potete prendere il bonus di benvenuto, quindi avete anche cripto gratis, perché oltre il bonus di benvenuto c'è la possibilità su Coinbase, e questo vi straconsiglio di andare a vedere i video che abbiamo fatto come guadagnare su Coinbase, dove potete ricevere alcune cripto gratis semplicemente partecipando a determinati quiz. Poi abbiamo Tezos, 4,63%, DAI, quindi sono stablecoin in questo caso, e USDC 0,15%. Queste sono quelle che attualmente ci permettono di guadagnare interessi passivi, ok? Qui vi ho lasciato aperta questa schermata, perché se non sapete che cos'è lo staking, c'è un ottimo articolo che vi consiglio di andare a leggere all'interno di Coinbase, oppure potete stoppare questo video, leggervi questa sezione, andare avanti, io vedete scorro così ve le potete leggere con calma, in quanto comunque è abbastanza chiaro che cos'è lo staking. L'abbiamo trattato tantissime volte all'interno dei nostri tutorial, quindi vi basterà ripetere comunque alcuni video che abbiamo già fatto sul canale. Però questo articolo, ripeto, è molto completo, quindi vi straconsiglio di andarlo a vedere. Ritorniamo un attimino al volo qui, proprio perché innanzitutto lo staking ci dà la possibilità di guadagnare interessi passivi e possiamo cominciare anche con un dollaro. Questo vuol dire che se noi carichiamo 100 dollari per poter avere il bonus di benvenuto, ci ritroviamo poi con 10 dollari di Bitcoin, quindi in totale 110 dollari, e sono cripto, per esempio Bitcoin, che possiamo comunque volendo convertire in un'altra cripto, nel caso in cui il nostro interesse è appunto guadagnare degli interessi passivi. Attenzione, c'è anche la possibilità di partecipare allo staking di Ethereum 2.0, ma è attualmente disponibile e sono in determinati regioni. A mano a mano verranno aggiunte diverse regioni, quindi dipende dove vi trovate, c'è anche questa possibilità, opportunità, di partecipare a Ethereum 2.0, dove vi ricordo una volta che partecipate, quindi c'è proprio una procedura per poter partecipare a Ethereum 2.0, non potete poi farci nulla con questa cripto fin quando non viene lanciata, poi probabilmente Coinbase metterà delle opportunità per poter comunque, nel caso, scambiare questa criptomoneta. Detto questo, attenzione, cosa molto importante, cerchiamo di capire quali sono le migliori criptomonete da sfruttare all'interno di Coinbase per guadagnare interessi passivi. Allora, vi dico la verità, io ne ho identificate tre, nel senso, queste tre che sono stablecoin hanno delle percentuali troppo basse rispetto ad altre piattaforme dove ci danno comunque delle percentuali più alte. Dai, diciamo, il 2% rispetto a Crypto.com può già essere identico, diciamo, ma anche nel decentralizzato possiamo aumentare di molto questa percentuale. Essendo comunque delle stablecoin, a me che vado a investire in Daino, SDC e in Tezos, cambia poco perché comunque sono tutte ottime stablecoin, quindi io mi sposto su Crypto.com che mi dà il 10-12%, capite bene che non ha senso che io investo in stablecoin su Coinbase, a meno che non voglio diversificare, ho tanto budget e allora voglio essere più piattaforme e lì a molto senso sia intelligenti nel fare questo. Se considerate che però io posso, per esempio, prendere come stablecoin UST, che è la stablecoin algoritmica dell'ecosistema Terra-Luna, che mi dà su Anchor Protocol quasi il 20%, capite bene che queste percentuali questo 0,15 fa ridere. Diverso è per Cosmos, Algorand e Ethereum, perché magari ho Ethereum comprato su Coinbase, non lo voglio spostare da altre parti, la percentuale è interessante, magari voglio partecipare al 2.0 e è intelligente da fare, va bene? Perché comunque io sono bullish su Ethereum e voglio detenere Ethereum. Algorand e Cosmos non sono mali, sì ci sono percentuali più alte da altri lidi, però già sono comunque delle percentuali che vanno bene e considerate che sono API, quindi interesse composto, automatico, io in qualsiasi momento comunque li posso vendere queste criptomonete. Quindi comunque non ho l'obbligo di detenerle, per esempio con una staking molto spesso di 20 giorni, 30 giorni, cioè significa che io li metti staking nel decentralizzato con un validadore e poi per riavere indietro la mia moneta quando decido di toglierla passano anche 20-30 giorni. Succede questo, ok? Quindi ci sono anche questi staking importanti. Su Coinbase questo non succede, quindi questo 4-5% può essere comunque abbastanza interessante, soprattutto se sono bullish su queste tre criptomonete. Quindi secondo me le tre migliori su Coinbase, su cui investire per ottenere interessi passivi, sicuramente sono Ethereum, Algorand e Cosmos. Tezos, DAI e USDC non li considero, visto che da altre parti abbiamo delle percentuali migliori. Un altro aspetto fondamentale, se io volessi trasferire le mie criptomonete nel Coinbase wallet, che è il wallet decentralizzato di Coinbase, dove posso detenere fino a 4.000 risorse, può avere senso perché io essenzialmente quello che posso poi andare a fare è usare queste criptomonete nel decentralizzato dove ho delle percentuali molto più alte. Per esempio io posso convertire le mie stablecoin USD su Anchor Protocol, che abbiamo fatto un tutorial comunque dove abbiamo spiegato come si fa il tutto e invece di avere questo 0,15% ripeto che fa ridere mi porta un 20% e cambia tutto il gioco. Quindi considerate che possiamo comunque utilizzare Coinbase wallet che potete scaricare gratuitamente dal vostro App Store. Siamo all'interno del wallet ufficiale di Coinbase e praticamente quello che io posso fare è non solo acquistare delle criptomonete, ma posso anche convertire. Per esempio se io voglio convertire questa criptomonete che ho ottenuto gratis attraverso i quiz di Coinbase, voglio convertire in Algorand, quello che posso fare è selezionare appunto la criptomoneta, andare su converti, nel tutorial abbiamo fatto vedere come si fa, seleziono la cripto di mio interesse che mi genera l'interesse passivo e vado a convertire tutto. Ok? Ora vediamo se me lo fa fare perfettissimo. Mi dice guarda tu puoi convertire 1,86, puoi ottenere 1,86 Algo perché in totale mi devi dare 61 amp. Io dico ok voglio convertire Algorand in questo momento, quindi clicco su converti, attendo che mi dà l'ok Coinbase. Ecco qui, la transazione è andata a buon fine. Generalmente è molto veloce questa transazione, quindi torniamo indietro e ce la ritroviamo qui. Ecco qui che io mi ritrovo i miei Algo in quanto ho fatto un doppio scambio attraverso la sezione Apprendi e guadagna. Quindi Apprendi e guadagna ci permette di guadagnare gratis delle criptomonete che se io voglio gratis le trasformo poi in Algo per esempio e mi ritrovo questa criptomoneta che mi genera comunque un interesse passivo. Vi ricordo che abbiamo fatto un video dove abbiamo spiegato come guadagnare gratis. C'è questo bonus di benvenuto, c'è Apprendi e guadagna che in questo momento fino a 9 dollari se non erro vi dà la possibilità di guadagnare. C'è l'invita amici e tante altre cose interessanti. Questo video andatelo a vedere perché vi permette di capire come ricevere cripto gratis con Coinbase. Infine facciamo un paragone tra tre exchange importanti come crypto.com, Binance e Coinbase ma vi potrei anche portare Celsius però guardiamo questi tre. Ricordiamoci queste percentuali e vi faccio vedere una cosa importante. Se io vado qui su cripto.com, immaginiamo di non aver investito in crow, ok, io metto euro, posso vedere le percentuali minime. Vedete che qui mi ritrovo un 10% dallo staking, staking bloccato di tre mesi. Se lo voglio flessibile 6% e molto di più. Le altre stablecoin come DAI, uguale, vedete che cambia tra flessibile e tre mesi o un mese, cambia ma è sempre di più, va bene? Quindi sicuramente io posso ottenere molto di più rispetto a Coinbase, ok? Quindi sicuramente le stablecoin sono più interessanti su crypto.com. Vediamo anche qui, eccolo qui, vedete? Ho un blocco flessibile del 3,21% che rispetto a queste percentuali è sempre più alto. Forse Tezos qualcosina in meno. Vediamo SDC, se qui ce lo fa vedere. 2,79. Io scrivo solo SD così comunque ci farà vedere magari qualcosina. dobbiamo proprio metterle per bene 3,12%. Diciamo da questo punto di vista sicuramente crypto.com è migliore anche Nexo tra le altre cose. Andiamo a vedere invece algo, algo che abbiamo messo in staking. Qui ce l'abbiamo bloccato su Coinbase. Allora vedete io ho qua un 4,5% però è bloccato. Se metto 90 giorni di 5,8% è qualcosina in più perché io qua mi ritrovo un 4%, giusto? Però è bloccato. Quindi dipende quanto sono bullish e non mi fa l'interesse composto qui, ok? Quindi dice API ma in realtà io quando poi prendo questo bonus mi viene dato nel wallet. Quindi dovrei reinvestirlo a mano a mano in teoria. Andiamo qui a vedere invece su crypto.com se abbiamo Algorand. Vedete? Algorand 2%. Se io metto lo stay inflessibile 0,5%. Quindi come vi dicevo Algorand molto interessante. Vediamo Cosmos. Cosmos 0,5%. Se metto lo staking bloccato 2% migliore sempre qui all'interno di Coinbase. Andiamo qui a vedere Cosmos. Se ce lo fa vedere se c'è. Eccolo qui. Qua è molto interessante. 9,47%. 10% o 12% addirittura. Considerati 60,90% esaurito e 30 giorni no. Naturalmente però questo è uno staking bloccato. Quindi diciamo che su Cosmos vince Binance. Ecco perché comunque alla fine di tutto, per ritornare al nostro discorso, dipende anche dove abbiamo la percentuale migliore. In linea di massima però vi sarete resi conto che crypto.com e Binance sono migliori come percentuali di interesse composto, di interesse dalle criptovalute. E quindi di conseguenza a meno che non avete comprato su Coinbase e le fee sono troppo alte per trasferirle su altri wallet, io vi straconsiglio di usare altri wallet per fare appunto lo staking. Nel caso in cui invece volete rimanere su Coinbase e può essere intelligente prendersi 10 dollari di bitcoin e ripeto, e tutte le cripto gratis che Coinbase ci permette di ottenere, le magari trasformiamo in Algorand e tanti saluti perché teniamo questa cripto qui, aumenta di valore e poi tra un anno vediamo dove è arrivata e poi la vado a vendere. Questa può essere una strategia. Se avete dubbi o domande lasciate un commento in basso qui sotto al video.